5 comuni e un solo obiettivo far vivere il territorio non solo per tre giorni anche negli altri 362 dell'anno fiano love fest e questo e tanto altro visite guidate tra la pio flumeri prato la serra montemarano e castelvetere stand di enogastronomia dibattiti la rassegna che ha ricevuto il sostegno e il titolo di itinerario divino dalla regione campania è stata presentata nel corso di una conferenza stampa e da manifestazioni come queste che l'irpinia può sicuramente ripartire questo progetto nasce da una scommessa la scommessa di riscattare il nostro territorio non è solo la pio stavolta quest'anno ci sono 5 comuni che si sono messi insieme per un itinerario turistico di eccellenza deve partire una nuova visione un modello turistico di sviluppo della campania ben diverso che deve puntare sulle eccellenze se si riesce a superare se si riescono a superare i campanilismi se in realtà pubblico e privato si mettono insieme se c'è una cabina di regia forte che mette in atto delle azioni di marketing di comunicazione forti e mirate con con degli eventi che riguardano tutto l'anno e non solo in realtà l'estate perché è un programma che andrà per tutto l'anno fino a maggio prossimo allora sì che si può parlare di turismo in campania 4 5 6 agosto di questa tre giorni se dovesse scegliere un giorno naturalmente lei mi dirà tutti e tre ma per incuriosire i visitatori insomma che cosa troveranno e in quale giorno in particolare allora troveranno sempre tanta ospitalità tanti buoni prodotti tipici sabato sicuramente ci sarà l'organizzazione di diversi convegni dibattiti per quanto riguarda il turismo quindi dovendo scegliere un giorno magari concentrerei sulla sul sabato sabato avremo anche la rai che ci verrà a trovare quindi magari se dovessi scegliere un giorno venite vi aspetto sabato